Hello everyone! Per chi non mi conoscesse sono Alexander di Levent School. Faccio questo video oggi per tutte le persone che ci seguono sulla nostra piattaforma leventienglish.com e anche per quelli che ci seguono sul nostro canale YouTube Imparare l'inglese con Levent School. Ci hanno scritto infatti in tanti chiedendo la possibilità di effettuare dei corsi online di conversazione in gruppo con noi perché impossibilitati a venire nelle nostre sedi in Veneto. Ecco allora, oggi sono molto felice di annunciare che siamo pronti per partire con i nostri corsi di conversazione online e le iscrizioni sono aperte fino a fine mese quindi avete un po' di giorni per scriverci e informarvi nel caso in cui vogliate partecipare a dei corsi di conversazione in inglese con uno dei nostri tutor. Vi do qualche informazione brevemente, poi se avete bisogno di ulteriori informazioni ci potete chiamare o scrivere ai contatti che trovate all'interno di questo video o all'interno di questo post. I corsi si terranno in orario serale durante la settimana oppure il sabato mattina. Saranno suddivisi per livello, quindi se sapete che livello siete bene, altrimenti potete fare un test con noi di modo che possiamo mettervi nella classe giusta. Vi forniremo gli strumenti e le risorse per poter effettuare il corso e il prezzo di questi corsi è di 10 euro, quindi abbiamo scontato quello che è il nostro prezzo normale per permettere a tutte le persone che sono interessate di potervi accedere. Una raccomandazione, i posti sono limitati perché noi siamo una vera e propria scuola d'inglese, quindi anche se siamo tanti docenti la disponibilità è limitata, quindi se volete prenotarvi un posto questo è il momento giusto per farlo. Trovate tutte le informazioni nel post oppure potete scriverci tramite la piattaforma leventienglish.com. È tutto, ci vediamo presto, buono studio e happy English di Alexander.